Buonasera telespettatori di Televomero, questa sera una puntata politicamente importante. Non tratteremo un problema specifico, un'emergenza continua, ce ne sono tante di emergenze, ormai ne parliamo tutti i giovedì, ma questa sera parliamo di un'emergenza di tipo politico. Cosa sta accadendo nel Consiglio Comunale di Napoli alla luce dei continui cambiamenti che pure si avvertono nel Paese, nelle composizioni, nelle scomposizioni dei poli e soprattutto questa maggioranza di San Giacomo che molti dicevano non avrebbe mangiato il panettone, io credo che il panettone tutto sommato lo mangerà, a questo punto c'è da capire che cosa succederà dopo, se questo panettone resterà sullo stomaco oppure sarà digerito bene. Stasera ci incontreremo con quattro esponenti di quello che possiamo definire il centro moderato del Consiglio Comunale di Napoli. Da molti questo centro è visto come colui il quale potrebbe creare particolari problemi alla giunta in un prossimo futuro. Però io, così come feci in un'altra occasione, vorrei mandare un'intervista di qualche anno fa, dopo vi dico quanti anni sono passati, di un bassolino molto giovane all'epoca, o almeno comunque più giovane di oggi. Andrei in onda dalla regia, se è possibile, questa intervista e poi vi spiegherò il perché.